A questa manifestazione aspettiamo delle risposte dal governo, cioè a noi personalmente le risposte le deve dare a noi, non a altre persone che non fanno gli agricoltori e che rappresentano gli agricoltori, perché è una situazione critica, non possiamo noi fare gli schiavi dentro le nostre aziende. 30, 40, 20, 30 anni fa, 40 anni fa è stata costruita l'Europa dei popoli, oggi si troviamo l'Europa delle lobby, quindi se voi, cioè adesso leviamo questa Europa, poi se voi ci credete ancora rifatela all'Europa dei popoli, perché io non ti credo più, perché non si doveva arrivare a questa condizione. Andremo a Roma tutti insieme, tutta l'Italia insieme, l'agricoltura italiana si è svegliata e sta avvenendo un fatto storico, le persone presenti qui oggi lo dimostrano, gli agricoltori per la prima volta nella storia uniti in un'unica bandiera, quella italiana, la prima cosa, l'unione di questi ragazzi, di queste persone che verranno lì con noi per portare una pagina, per cambiare qualcosa, ma non solo dell'agricoltura, ma proprio della società italiana si deve cambiare qualcosa, perché la speranza non c'è più tra i giovani e noi la vogliamo ridare possibilmente.